io oggi sono qui per dirvi ragazzi non mollate forza tenacia e lo so che tremano le gambe mi sembrerà di morire pensate di non ricordare nulla ma io sono qui a dirvi che questo non accadrà e quindi un grosso in bocca al lupo ricordate che tutto ha un inizio e una fine non mollate in bocca al lupo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo sappiamo che insomma sono stati due anni particolari per tutti quindi la commissione ne terrà conto non vi preoccupate e andrà bene andrà bene un grandissimo in bocca al lupo ciao a tutti ciao ragazzi volevo farvi un grandissimo in bocca al lupo per gli esami di maturità so che alcuni di voi sono un po in pensiero perché è stato un anno scolastico particolare perché le modalità d'esame sono diverse dal solito cercate mi raccomando di non preoccuparvi troppo e ricordatevi che in commissione ci sono professori che vi conoscono e che faranno tutto il possibile per mettervi a vostro agio durante la discussione buona fortuna date il massimo il terrore di farvi la domanda sbagliata è la cosa che mi mette più agitazione tant'è vero che di solito la notte prima degli orali io dormo pochissimo cioè o vado giù di melatonina oppure oppure non riesco quindi ecco se mi incontrerete non quest'anno perché sono tutti membri interni ma se mi incontrerete i prossimi anni sappiate che io ho tanta paura quanto voi perché la cosa più importante in quel momento lì è che voi possiate essere messi a vostro agio per dare il meglio cioè di eliminare completamente la paura e la tensione perché altrimenti poi li andate in panico e scrivete dite cose che non vanno bene quindi se mi incontrate datemi una pacca sulle spalle ditemi dai prof dai che ce la fa dai ok comunque in bocca al lupo e date il meglio di voi stessi e anche io proverò a dare il meglio di me stesso questo è l'unico che l'unica promessa che ci possiamo fare bocca al lupo buona maturità grazie a tutti grazie a tutti